Lei ha facoltà di intervenire l'onorevole Foscolo, che illustrerà anche la mozione 1.282, di cui è confirmataria. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe e membri del Governo, in questa giornata siamo qui per parlare di mozioni per contrastare la violenza sulle donne. Ricordo che circa un anno fa, in questa stessa Aula, ci siamo trovati a discutere di questo stesso argomento. Sono passati 12 mesi e oggi, come allora, l'argomento rimane alquanto delicato e di drammatica attualità. Molto è stato fatto dal precedente Governo e a livello di iniziative parlamentari, sia dal punto di vista legislativo che da quello della sensibilizzazione. Ma molto è ancora da fare per prevenire e combattere su ogni fronte il fenomeno della violenza di genere, una battaglia di buonsenso che, lo ribadisco ancora una volta, deve andare al di là dei singoli schieramenti politici, per trovare la massima condivisione possibile. Basandoci sui dati raccolti dal Censis, emerge che tra il 1 agosto 2017 e il 31 luglio 2018 sono state 120 le vittime di femminicidio in Italia, mentre per quanto riguarda il 2019, ancora in divenire, risulta che nei primi tre mesi il trend sia essere in diminuzione. È un dato certamente positivo, se confermato, che però non può e non deve rappresentare un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Perché ogni forma di violenza è inaccettabile e perché anche solo una vittima di femminicidio è una vittima di troppo. L'obiettivo deve essere quello di arrivare all'azzeramento del fenomeno, preoccupante, inquietante, spesso purtroppo difficile da quantificare. Non solo con le emozioni approvate da quest'Aula, sicuramente utili, ma anche e soprattutto con azioni efficaci e concrete in materia di prevenzione e di contrasto a 360 gradi. Parallelamente ai dati statistici ci sono le cronache internazionali, nazionali e locali, che ci ricordano purtroppo quasi quotidianamente la gravità della situazione. Basta leggere ogni giorno un quotidiano, guardare un telegiornale, ascoltare un notiziario o scorrere i portali online per rendersene conto, e questo su ogni territorio. Come ricordavo lo scorso anno, anche la mia stessa comunità, il Comune di Pietraligure, ha testimoniato il drammatico caso dell'omicidio di Gianni Radamato, ventunenne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato. Una giovane vita spezzata da un tragico delitto. E sempre Pietraligure, pochi anni prima, aveva assistito all'omicidio di un'altra donna, Alba Varisto, un'infermiera massacrata a calci e pugni da colvivente, che l'ha poi vegliata per 48 ore e le ha inciso una croce sul petto con un coltello. Boissano, sempre nella mia provincia, esattamente un anno fa a novembre. Roxana Carinzenteno è stata soffocata nel sonno dal marito, mentre in casa si trovavano anche i due figli minori di 10 e 12 anni. E ancora, pochi mesi fa, a luglio, a Savona, un'altra vita portata via, quella di Deborah Ballesio, uccisa dall'ex marito a colpi di pistola durante una serata in un karaoke, una sparatoria in cui sono rimaste ferite altre due donne e una bambina di tre anni. «Non sono pentito di quello che ho fatto, mi spiace solo per gli innocenti coinvolti», ha dichiarato nel momento dell'arresto l'autore dell'omicidio, già in passato condannato per stalking per maltrattamenti contro la vittima e che, nonostante il divieto di avvicinarsi alla donna, le aveva promesso che sarebbe tornato. Ed è purtroppo ancora lungo l'elenco delle donne maltrattate e uccise da chi diceva di amarle. Notizie come queste sono agghiaccianti, non possono lasciarci indifferenti, anzi, devono sprunare tutti noi a intensificare gli sforzi per combattere la violenza di genere, senza se, senza ma e senza sconti. Lo affermo da donna, da privata cittadina, da rappresentante delle istituzioni. Oggi, come un anno fa, c'è bisogno di un impegno collettivo per fare sì che episodi di questo genere non accadano mai più. Serve un'attenzione particolare e opera di prevenzione verso un fenomeno che va sì studiato, ma soprattutto affrontato e arginato, dotando i soggetti coinvolti di strumenti efficaci, idoni e adeguati per il contrasto e la repressione del fenomeno. Per fortuna qualcosa sta iniziando a cambiare. Lo scorso 19 luglio, infatti, questo Parlamento ha dato la propria approvazione alla legge cosiddetta Codice Rosso, fortemente voluta e condivisa dalla Lega, da Matteo Salvini, dall'allora Ministro Giulia Buongiorno. Una promessa mantenuta, un importante risultato nella lotta alla violenza contro le donne, un passo in avanti storico che introduce novità decisive per porre un argine come gli incrementi nelle pene per la violenza sessuale, lo stalking, la violenza domestica, perché è importante evidenziare che nella maggior parte dei casi chi si macchia di tale crimine è un familiare, un marito, un convivente, un fidanzato. Grazie al Codice Rosso la specializzazione del personale e delle forze dell'ordine punta a una risposta professionale adeguata alle specificità proprie delle indagini, con l'obiettivo di avere una maggiore uniformità delle capacità di reazione delle denunce. Il provvedimento che abbiamo sostenuto con orgoglio e convinzione punta ad accorciare le distanze tra la giustizia e le donne maltrattate e a reprimere più efficacemente il fenomeno della violenza sulle donne. Sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi anni nel nostro Paese. Il Codice Rosso è stato un provvedimento di importanza fondamentale in questo percorso. Ci sono tuttavia ancora tanti importanti ulteriori sforzi da fare. Bisogna intervenire aumentando la consapevolezza delle donne sui loro diritti. I rimedi a disposizione, fornire alle forze in campo strumenti efficaci per proteggere le donne che hanno il coraggio di denunciare. E per contrastare il fenomeno della violenza, come evidenzia anche la nostra mozione, sarebbe quanto mai indispensabile promuovere ogni provvedimento normativo per introdurre specifici trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido. E inoltre non va sottovalutato il fenomeno della prostituzione, che rappresenta una tipologia di violenza ed è una problematica innegabile. Una realtà che esiste, spesso sommersa, spesso collegata alla criminalità e con la tratta degli esseri umani, con dati parziali e raccolti con difficoltà. Una realtà del nostro Paese che non può essere ignorata e che invece va affrontata sempre con lo stesso obiettivo, quello di difendere le vittime. Ecco perché sarebbe opportuno, oggi più che mai, avviare un dibattito maturo, senza pregiudizi né barricate, sull'abolizione e sul superamento della legge Merlin. Da parte nostra continuano ad essere presenti la massima attenzione e il massimo impegno verso il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. La mozione che presenta oggi la Lega è per assicurare la totale e adeguata applicazione del codice rosso e di una serie di misure per operare sulla prevenzione, sull'informazione, sulla protezione e, in ultimo, ma non in ordine di importanza, sulla repressione della violenza di genere. È per questo che nella nostra mozione chiediamo al Governo alcuni impegni, ad esempio prevedere corsi di formazione per la Polizia di Stato, per l'arma dei carabinieri, per il corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di prevenire e perseguire i reati indicati nella legge del codice rosso. Bisogna assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi. Occorre, inoltre, aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità, secondo la reportistica ricevuta da Regioni e province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando, di conseguenza, circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio. Chiediamo al Governo anche di impegnarsi ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile. Occorre a nostro avviso anche intervenire all'interno delle scuole per educare le nuove generazioni alla parità tra uomo e donna, all'affettività, a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, al diritto all'integrità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione. Bisogna inoltre prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e di sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato dal lavoro in favore del risarcimento delle vittime. Quindi è necessaria una serie di interventi affinché si possano proteggere le vittime e arginare in maniera efficace e decisiva l'odioso fenomeno della violenza alle donne. Questo lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo a Gianira, ad Alba, lo dobbiamo a Deborah, a Roxana, lo dobbiamo a tutte le donne vittime di violenza, perché non accada mai più, perché l'impegno condiviso non resti sulla carta o nei resoconti stenografici delle Camere, ma possa diventare un'azione concreta. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare l'onorevole Ascari, mia facoltà.